Ciao a tutti e bentornati! Oggi parliamo di un gioco di perpria di S che è Fire Emblem Awakening Parlo di questo gioco che non è più recentissimo per due motivi Il primo, perché quello che dico oggi mi servirà quando farò la recensione di Fire Emblem Fate Retaggio che è l'ultima uscita, uno dei tre capitoli dell'ultima uscita e il secondo, perché è veramente un futuro capolavoro quindi anticipo già il finale però concedetemelo, perché veramente è un fottuto capolavoro Allora, cominciamo a parlare del gameplay È difficile e stabile in un genere Potremmo dire che è uno strategico attorno con elementi di giochi di ruolo in quanto il gioco ci porta lungo la narrazione della storia tramite una battaglia e un'altra Tra le battaglie vi è un hub centrale in cui è possibile far interagire i personaggi fare aumentare l'affetto che dimostrano tra di loro e migliorare l'equipaggiamento migliorare le classi ad esempio ci sono anche le classi di prestigio che si sviluppano dopo il decimo livello e gestire quella parte ruolistica del gioco Tra le missioni principali della trama ci sono numerosissime battaglie che potremmo definire secondarie che servono esclusivamente a far aumentare l'esperienza dei personaggi più quelle che vengono chiamate le appendici Le appendici servono normalmente per reclutare nuovi membri del gruppo membri un po' particolari in quanto, come detto prima ah, piccola parentesi, importante il gioco si basa sui paradossi temporali e quindi, dicevo, come detto prima si possono fare dei legami tra le persone questi personaggi si sposano e genereranno in un futuro dei figli che ritornano indietro nel tempo per motivi legati alla trama che non voglio spoilerare e quindi nelle appendici di solito è possibile reclutare i figli è interessante perché le abilità di questi ultimi cambiano a seconda dei genitori se per esempio la figlia se ad esempio una delle figlie dei protagonisti sarà sempre comunque lei si chiama Anna se con un certo padre potrà avere determinate caratteristiche con un altro e addirittura inarrostabile però questo non ve lo dico perché al di là di tutto è anche carino far sviluppare i personaggi, i sentimenti come vengono senza forzare le cose comunque sappiate che esistono delle combinazioni migliori non sono un grandissimo esperto di grafiche del 3DS se lo ammetto però mi piace molto confrontandola anche con Fates quindi quello più nuovo non è che sfiguri più di tanto Fates è sicuramente meglio ma negli anni di differenza non c'è tutta questa enorme diversità di grafiche le battaglie sono droganti sono battaglie a turn noi comandiamo il nostro manipolo di eroi e contro avversali nel 90% dei casi significa vincere la mappa significa eliminare gli avversari nel 10% dei casi eliminare il boss non è che ci sia tutta questa grande varietà di tipologie di missioni da fare le mappe cambiano invece molto hanno anche molto spesso le mappe hanno degli ostacoli naturali artificiali che possono rafforzare o diminuire determinati tipi di truppe ed è quello che è veramente fatto bene il combattimento che si basa sul sistema sasso-carta-forbice verrà poi migliorato in futuro però diciamo che ogni tipo di arma ha un vantaggio rispetto a un altro tipo e uno svantaggio rispetto all'altro tipo adesso non mi ricordo esattamente quali sono però ad esempio lo stesso vale per le unità ad esempio le unità volanti hanno un vantaggio rispetto a quelle terrestri quelle terrestri hanno un forte vantaggio rispetto a quelle a distanza quella a distanza hanno un forte vantaggio rispetto a quelle volanti questo anche questo non mi ricordo meglio quindi per far capire come funziona il sistema sasso-carta-forbice e altro aspetto che può rendere il gioco veramente micidiale è che impostato alla difficoltà massima le morti dei personaggi sono permanenti muoiono fine come fosse una vera guerra ovviamente se muoiono i protagonisti si arriva al game over se muorono i comprimati semplicemente muoiono e adesso vi troverete a dover rifare delle battaglie facendo dei giri mostruosi solo per salvare un determinato personaggio è frustrante certe volte veramente frustrante ma è anche molto appagante detto questo proprio per non ha dei veri propri svantaggi se non ha un minimo di ripetitività alla lunga come ho detto le battaglie sono più o meno tutte simili cambiano lo scenario ma il concetto è sempre lo stesso quello abbassa un po' il giudizio finale perché altrimenti saremmo greggiato verso 10 quello che è veramente a me è piaciuto veramente tanto è il finale e non è che succede molto spesso detto questo il gioco secondo me vale un 9 su 10 ed è assolutamente raccomandato a tutti i possessori di 3DS piccola nota come ho detto prima alla difficoltà massima c'è la morta permanente questo era il classico era il biglietto alla visita di tutti i farelli in realtà esiste anche una modalità facile in cui i personaggi morti ritornano al termine della battaglia questa ha anche un altro vantaggio permette di salvare durante le partite se avete poco tempo è una mano al cielo anche perché le battaglie possono durare più di un'ora io vi saluto Dana vi sta salutando come potete sentire e ci sentiamo alla prossima ciao a tutti